Ma può un'iris bianca diventare blu? Ma no che non può! Certo che no, perché possono solo avvenire lievi variazioni che adesso vi elenchiamo. Un caso può essere quello della composizione del terreno e del tipo di concimazione che diamo, perché certi elementi possono determinare una piccola variazione nella colorazione del fiore. Un altro fattore è dovuto alle temperature e l'esposizione del sole, quindi anche questo può determinare una piccola variazione nella tonetà di colore del fiore. Oltretutto la quota altimetrica può influire sulla variazione del colore, perché più saliamo in altitudine, più le piante diventano compatte, condensate, aumenta il profumo e può aumentare anche leggermente il colore. Un'altra cosa che può succedere è la formazione dei cosiddetti sport. È una cosa abbastanza rara, però è una piccola mutazione genetica che avviene a causa di motivi veramente anche dei più astrusi, che possono essere relativi anche a raggi cosmici, che sono delle piccole variazioni nella colorazione o anche in qualche cosa riguardante altre parti dello stelo. E ultimo fattore potrebbe essere un'esposizione temporanea ad erbicidi o diserbanti che inducono la pianta a una lieve mutazione non perenne, che potrebbe portare in quel momento una variazione di tonalità di colore sia nella foglia ma anche nel fiore. Ma se nel vostro giardino è successo qualcosa di questo genere, cioè a un certo punto ci siamo ritrovati ad avere tutta una colorazione, ci sono delle soluzioni. Uno è il fatto che ci sia stata una predominanza varietale, ossia abbiamo piantato diverse varietà cultivar di iris germanica e soltanto alcune hanno avuto la meglio sulle altre. Possono essere cresciuti i rizomi sopra, può essere morta l'altra a favore della seconda, possono essere successe diverse cose, ma non è la pianta che si è trasformata, è soltanto una che è cresciuta al posto dell'altra. Oppure possiamo avere una condizione di questo tipo quando, per esempio, ci troviamo ad avere e coltivare iris bianche, che in genere sono molto vigorose e quindi, un po' come l'esempio precedente, predominano sulle altre varietà perché magari piantate troppo vicine e quindi anche questo può far sì che una varietà scompaia e predomini quella più forte. Poi il caso in cui acquistate dei rizomi e il risultato del primo anno non sia conforme a ciò che avete acquistato, in quel caso è proprio la varietà acquistata che non è del colore che si era richiesto, c'era stata una sostituzione che può essere successa per vari motivi. Ultimo caso, ma comunque raro e difficile che avvenga in maniera così spontanea, è che quando due varietà differenti si ibridino attraverso la fioritura, diano origine a del seme che caduto in terra generi, ma nel tempo, una nuova varietà che porta un nuovo colore. In questo caso è possibile che ci sia una variazione, ma dovuta proprio al seme e in questo caso è una vera e propria nuova cultivar, una nuova varietà. Speriamo di aver così fatto chiarezza sul fatto che a molte persone che abbiamo incontrato nella nostra vita ci abbiano chiesto ma come mai sono cambiati i colori degli iris nel mio giardino? Prima erano blu e bianchi, adesso sono solo bianchi. Le motivazioni sono veramente esclusivamente quelle che vi abbiamo detto.